capisci che è uno scampo? ma si buonasera, a chi? a nessuno? intanto mi approfitto per mettermi la parannanza che me la sono dimenticata che me la sono dimenticata allora la vediamo ok, vediamo un po' la situazione zero, 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 zero vabbè, in teoria penso almeno Marco Fiero debba collegarsi visto che ha detto che aveva un posto in prima fila sennò al massimo gli facciamo una chiacchiera da noi sì, vabbè, ce l'hanno chiesto appositamente perché sennò io mi avrei mangiato il tonnetto questa sera a tartare vabbè, gli facciamo una chiacchiera da noi sì, io e te ma non chiacchierassimo mai io e te e te e io ecco i fumi, ecco i fumi niente? no tutto tace? tutto tace, venerdì uno oh Mariano Carbone ciao il grande maître ciao Mariano oggi non c'è nessuno quindi no bene, ci hanno pure chiesto due oh, vai con due già siamo in teoria la lezione ti inizia con tre allora aspettiamo il terzo dai sempre che ci sia lo stampetto due, tutto tace, tutto fermo a due? vedo tre di un ma non vedo chi siano al di là di Mariano quattro oh rosso eccolo eccoci qua bene, abbiamo superato il tre Fabrizio quindi possiamo siamo a cinque possiamo andare possiamo andare sei allora questa sera come già abbiamo detto ciao chef Fabri ciao Fabri come abbiamo detto nei giorni scorsi andiamo a fare la classica ricetta cioè vista, rivista e rivista ma comunque sempre molto buona buonasera Danze del Monte Maria Pia risotto alla crema di scatti quindi che cosa facciamo? allora come prima cosa io faccio subito nitrito l'aglio allora gli ingredienti sono aglio come serve va bene qua l'abbiamo bypassato buonasera Simona ciao Simona no ora ne vedo 14 rosso da tempo al tempo all'inizio ne vedo pochi perché eravate pochi vabbè ma poi col fatto che non siamo in grado di taggare eh e poi ci abbiamo pure un'altra un'altra cioè una sorpresa per la settimana prossima se va tutto bene boh allora qui questa è la solita salsa magica andiamo a fare aglio e alici lo tritiamo finemente c'è Marco Piero ciao Marco ti aspettavamo se ci davi buca guarda Roberta Bonanni allora andiamo a tritare l'aglio proprio finemente perché io sono dell'idea che l'aglio o c'è quindi a spicchio grande in modo tale che poi possiamo toglierlo oppure deve essere tritato talmente finemente che quando lo andiamo a mangiare non non ci disgusti cioè voi immaginate uno spicchio d'aglio che ti capita mentre stai al ristorante o mentre mangi almeno a me a me piace buonasera a me piace moltissimo però diciamo che farebbe passare l'appetito uno spicchio d'aglio così mangiare allora Marianna e Benedetta vi faccio vedere questo quindi secondo voi che ci sarà questa sera questo è uno scampetto ok fatto questo quindi ci gridiamo sto cercando oggi questa sera innanzitutto cercherò di farvelo vedere quasi ciao Franca passo dopo passo quindi penso riuscirò a saltare poco e niente quindi in 20 minuti cerchiamo di fare un risotto alla crema di scampi in modo espresso allora andiamo scegliamo quella allora qua ci parò la salsa quindi è leggermente diverso da quello che capita sicuramente nel ristorante perché nel ristorante difficilmente il risotto lo fanno ma al 3 maggio alle 24 una spaghettata tutti i fan a casa tua per festeggiare la fine della quarantena oddio non è che ci troviamo proprio alla fine della quarantena il 4 maggio in realtà però definiamola così con un eufemismo bah ciao Giorgio ciao Miri Conte ciao bravo allora diciamo subito questo è uno dei mille modi per fare il risotto alla crema di scampi c'è chi fa la bisque c'è chi toglie barbara toglie la polpa dagli scampi e la frulla io faccio penso sia una delle ricette più semplici e sbrigative poi per carità ognuno è libero di modificarla a proprio piacimento quindi io stacco ciao Franca lo scampo quindi incido il carapace dalla testa alla coda non lo lavo lo scampo perché a me interessa che mi rilasci tutto il sapore quindi qui c'è il brodo nel frattempo vegetale ciao Frances andiamo a mettere in una cassevola aglio ciao Roberto e questi scampi che ho spaccato allora un semplicissimo risotto alla crema di scampi per cui qui c'è il brodo vegetale qua stanno cuocendo gli scampi primo step fatto ora non so cosa manchi ciao Francesca Bulla io in realtà credo che nella mia vita non ho mai cucinato un risotto probabilmente no cioè riso sì quindi riso venere riso e cereali ma infatti molti spesso confondono oppure utilizzano allo stesso modo il termine riso è risotto come dire vabbè faccio riso alla crema di scampi risotto alla crema di scampi è la stessa cosa no non è proprio la stessa cosa perché il risotto subisce una tostatura e poi avviene la cottura aggiungendo il brodo il riso invece viene ricotto come la pasta che in acqua collente salata a proposito il sale quindi questo è risotto anche se a me a dire la verità piace molto più il riso non che ci vada proprio matta però piace più il riso che il risotto è una cosa brutta perché in realtà il risotto è molto più elaborato molto più lavorato invece piace più il riso a parte rispetto al condimento non a marina mano allora intanto che posso questo così provo a farvi vedere una volta che facciamo rosolare gli scampi una cosa consiglio che do mettete contemporaneamente scampi e aglio tritato altrimenti rischiate che poi se fate sosteggere l'aglio rischiate che poi si bruci vada proprio avanti con la cottura qua ci siamo qua è normale che io adesso accendolo leggermente perché se no se lo dovessi fare proprio come dire come Cristo comanda difficilmente lo riuscirei a fare in 20 minuti quindi mi preparo con il brandy perché a differenza di altre preparazioni lo sfumo con il vino sfumo con il brandy il brandy tende a rimanere tutto il dolce a rilasciare meno acidità rispetto al vino in questo caso sfumando con il brandy non andremmo a diciamo a modificare l'aspetto dello scampo in alcune carri in alcune carri l'ho capito dopo un po' di anni di ristorante se sfumiamo con alcuni tipi di vino il vino tende a ossidare il caravaggio quindi inizia a diventare scuro vanno le macchie le macchie nere dal punto di vista organolettico non è un problema è semplicemente brutto da vedere batto questo mi tolgo dalla fiamma e il fumo con il brandy allora non ha preso buono perché voglio semplicemente far salire di più la temperatura però questa cosa che sto facendo non è del tutto corretta perché comunque è vero che brucia la parte alcolica ma in realtà io ho qualche antennina che la sono dimostitata in questo modo brucia e quindi sostanzialmente essendo una combustione diciamo non è proprio il massimo è semplicemente scenografico ma in realtà non è che è fondamentale lambare ecco stiamo facendo allora adesso io questo che lo metto perché tanto il massimo ti rimane non lo facciamo mai dopo la volta che lo facciamo nell'attesa che cuocia la salsa io inizio a cuocere e a tostare il riso così ci portiamo avanti ah poi vi devo far vedere pure i risultati della mossa ok ma fa tutto tacio tutto regolare faranno concentratissimi oppure fanno come i ragazzi mettono poi spengono i ragazzi quando facciamo il video si le telecamere l'audio tutto così risulta la presenza e poi va a capire quello che fanno ma invece ieri una c'ha avuto la faccia le passe vede con i rolli eh sì allora quindi questa sarà la salsa che utilizzeremo per fare il nostro risotto semplicissima cioè aglio alici scampi brandy olio e salsa di pomodoro perfetto questo è fatto bene inizia a bollire siamo all'acrame poi in un'altra cassevola Simona sta concentratissima mettiamo il solito olio extravergine d'oliva anche per quanto riguarda il risotto ci sono vari correnti di pensiero c'è chi preferisce fare la tostatura senza grasso senza sostanza grassa e chi la fa come nel mio caso con la sostanza grassa io non dirò mai è giusto come faccio io è sbagliato come fa la no ognuno ha il suo metodo io faccio così rosso c'è rosso tu l'hai mai fatto un risottino anche per quanto riguarda il riso ci sarebbe il tipo di riso ci sarebbe un mondo da dire però io l'ho preso tu hai preso il riso il classico quello proprio riso scotti originario il carnaroli allora io non li conosco cioè se mi dici venire rosso quei cereali alternativi ok però quello non è stendamante non so quale sia la differenza tra arborio originario cannaroli cambiano cambia la dimensione del chicco il carnaroli dovrebbe essere il più indicato dice Marco Fiero beh il carnaroli io pure a scuola utilizzo spesso il carnaroli perché mi piace arborio che è quello più cicciotto quello il chicco più allungato poi in base pure a quello che devi fare se devi fare un'insalata di riso se devi fare un risotto se devi fare i supplì insomma ce ne stanno tanti e pure Simona dice ce ne stanno tanti questo quindi che tipo è carnaroli no no non è carnaroli te l'ho detto è classico il classico quale sarebbe originario allora ti faccio vedere il classico io perché nell'indecisione ho letto classico ho letto bello classico vedi il super fino c'è quello a chicco tondo noi ce lo facciamo andare bene bene comunque non è un problema allora che poi quanto abbiamo detto noi quanto riso abbiamo messo 3,50 ok 3,50 ma è per due persone allora in realtà la grammatura a crudo sarebbe sui 80 grammi noi l'abbiamo fatto in più da far assaggiare mi risponde in privato Roscio quindi per tostare alziamo la fiamma Simona utilizza di Sant'Andrea riso di Baraggia biellese e vercellese buonissimo ma per fare che il risotto per i risotti allora io intanto ho iniziato la cottura del ricco ma come mai non lo fai con quella di legno perché oh perché poi questa è piatta quindi pure quella di legno è piatta ah con la paletta di legno vabbè perché questa fa troppo rumore e il legno andrebbe bandito la cittadina la famosa la famosa cucchiarella non si potrebbe utilizzare chi è no vabbè ma io però mi sa che qualcuno in una ricetta d'ha scritto che utilizzava la cucchiarella quando doveva fare l'elenco degli strumenti non si hanno scritto che la cucchiarella ragazzi questo è un po' come di comanda in cucina vabbè ma io cioè in questi anni di insegnamento ho assistito veramente a delle scene spettacolari ad esempio non so se l'ho detta pure già in qualche diretta la domanda che fece a un ragazzo di comanda un ragazzo alle talle di cucina di comanda in cucina la sua risposta fu mamma e là giustamente non aggiungi altro perché giusto allora qua ci siamo oggi la seconda composta da quasi tutti i bocciati non si aveva la brigata di cucina normale allora vedi no diciamo non ci siamo solo noi messi male all'alberghiero di Piugi perché molti dicono Piugi non è più quello di una volta ma alla fine non è sempre colpa dei professori eh comunque domande ne abbiamo lo so che questa è una parte un po' più noiosa perché adesso iniziamo la cottura nella durante la cottura facciamo il break e vediamo il dolce a questo punto iniziamo a sfumare la tostatura in poche parole serve a granare poi il picco a far sì che rilasci meno amido in cottura poi vabbè c'è anche da dire che spesso capita di trovare il riso barboile e quello è un altro scorso ancora un riso che subisce già un trattamento all'origine quindi buonasera Rita Mancini ciao Rita quindi per Rita che cosa stiamo facendo un risotto alla crema di scampi ok all'inizio possiamo anche mettere un po' più di brodo tanto non c'è il rischio che non c'è il rischio che scuocia perché abbiamo iniziato adesso la cottura a differenza del riso il risotto va girato cioè nel senso se lo giriamo aiutiamo quindi poi a rilasciare l'amido e via dicendo mentre il riso quando facciamo il riso bianco se tu lo cali nell'acqua e non lo giri più non si attacca se invece lo inizia a girare poi sei costretto a girarlo spesso perché si inizia a far rilasciare l'amido si dice che questa è una ricetta anche per celiaci mentre per ridamancini scusate il ritardo ho perso molto è un po' la preparazione iniziale ma ora lo chef farà un bellissimo riassunto allora stiamo facendo risotto alla crema di scampi per prima cosa abbiamo fatto un soffritto di aglio aglio tritato e un filetto di acciuga dopodiché ho spaccato lo scampo dalla testa alla coda quindi tutto il carapace e ho messo nella casseruola tutto insieme aglio cioè soffritto aglio alici e scampi ho fatto rotolare dopodiché ho sfumato con i brandy adesso vogliamo i brandy dalla piamba appena evaporata tutta la parte alcolica ho messo la passata di pomodoro regoli di sale e lasci cuocere intanto che la salsa va avanti ho iniziato a tostare il risotto quindi mi sono portato avanti con il risotto e quindi ho fatto tostare il riso con dell'olio dopodiché una volta che era bello tostato ho aggiunto del brodo vegetale qui in questi casi c'è chi sfuma pure con il vino chi sfuma il riso con il vino è sempre quello il discorso parliamo sempre di acidità non è che non si possa fare bisogna vedere sempre quello che vuoi ottenere se utilizzi il vino avrai alla fine un prodotto che avrà una percentuale di acidità più alta rispetto magari al fatto di utilizzare un brodo un brodo di verdure insomma un brodo vegetale allora io la mia regista è multitasking cioè mentre riprende sa fare delle certe cose beh nella vita io sono sempre molto bassa dire niente tra qualche minuto inizio ad aggiungere la salsa e vi faccio vedere i risultati di quello che abbiamo preparato ieri nonostante ci sia stato ecco le allora io ho una premessa aspetta diretta a Giorgio oggi avevo detto a Roberto di prepararle per voi però ha detto che non ha avuto tempo quindi ora non so comunque questa è la mossa che abbiamo fatto ieri alla fine l'abbiamo completata con una granella questa è una granella integrale di biscotti integrali e abbiamo messo un pezzetto di cioccolata che richiama appunto la cioccolata che abbiamo utilizzato che abbiamo utilizzato un fondente al 70% non abbiamo utilizzato lo zucchero quindi questa rimane più amara ma semplicemente perché a noi piace quel tipo di cioccolato e se usate un classico cioccolato perugino che sicuramente potete tranquillamente evitare lo zucchero perché rimane comunque bella dolce fogliolina di menta che dà colore ecco una cosetta sfizzita sono dolce al cucchiaio e niente quindi questo è quello che abbiamo fatto ieri oggi l'abbiamo visto finito rimetto in frigo e torniamo al nostro risotto arrivato a questo punto inizio ad aggiungere la salsa in questo modo la differenza allora tra che a questo punto però c'è un problema perché devo mettere pure la panna allora facciamo così sto facendo un po' un mix allora vi spiego tutto non ho capito che volevi sto riflettendo un attimo allora no sto a pensare che se metto la panna là poi siamo stretti a usarla come crema per tutte le cose invece se io la metto in questo modo posso riutilizzare la salsa per quello volevo evitare di metterla lì quindi solitamente vi spiego nella salsa che facciamo andiamo ad aggiungere la panna panna fresca possibilmente che è decisamente migliore rispetto a quella UHT costa tre volte tanto quattro volte tanto ma come dire visto che ce lo mangiamo noi secondo me la qualità al primo posto dopodiché ma pure se se lo mangiano gli altri sì però capito purtroppo non tutti i ristoratori ragionano così Giorgio ci dice grazie per l'interessamento allora considerate che questa era da mezzo litro ma ce ne stanno forse in 250 grammi l'andrò a utilizzare tutta ma semplicemente perché se no poi siamo costretti ad utilizzarla per qualcosa eh ma poi non è paziente la mousse Giorgio allora quindi bisogna fare una roba tempestiva a questo punto io mi fermo perché se no rischiamo poi che ci sia troppo brodo ok continuiamo così posso fare ancora un'altra cosa questo che dobbiamo spessare puoi tritare il prezzemolo bravissima eh vedi faresti un ottimo aiuto eh Rita Mancini ci dice dove trova le dosi bella domanda Rita allora le dosi le vediamo noi allora il discorso qual è noi siamo partiti per farlo per due persone ma in realtà non è per due persone io ti dico indicativamente come sarebbe per quattro questo come mi gestisco al ristorante in base alla pezzatura dello scampo perché anche gli scampi hanno una loro pezzatura eh ne metto uno due o tre a testa se sono quelli piccoli piccoli io ne considero tre a testa questo qui è uno scampo medio io ho una pezzatura 31-40 aspetta perché ora non mi la faccio prenderlo di questo io ne metto ne andremo a mettere due a testa inizia ad essere uno scampo bello bello come dire ha una sua bella presenza ecco solo li devo mettere nella salsa perché se no rischio che non prende la panna ok questa per adesso la posso pure spegnere così quindi ti dicevo Rita due scampi noi abbiamo considerato due scampi a testa 80 grammi di riso parliamo sempre di riso a crudo 80 grammi a testa 80 grammi a persona due scampi e poi ti regoli tu nel senso che per quanto riguarda la passata di pomodoro tu considera un mestolo a testa poi se ti piace più rosso metti più salsa pomodoro e meno panna se ti piace più bianco se non ti piace il pomodoro fai semplicemente tutto con la panna io non amo molto farlo completamente in bianco in bianco perché dopo un po' la panna tende a a diventare pesante mentre in questo modo perché comunque anche il pomodoro ha una sua acidità riesce a mangiare meglio arrivare alla fine del pasto mentre per il soffritto è un aglio e qualche alice a piacere ma l'alice non serve per dare sapore serve soltanto a dare spessore in che senso a dare più diciamo visto che comunque è pesce crostace e via dicendo non è che deve essere dominante serve soltanto per dare più corpo per dare più diciamo sapore ma arriviamoci purtroppo non lo so perché succede questo ragazzi calcola che era passata pure il lingua inglese quando quando inizia a dare numeri da un po' di tempo che stava in inglese beh ma tu non c'hai problemi no no io no una madrelingua come te sì quindi dove ci siamo dove vi siete persi ma secondo me è a cerca che ritornano siamo a zero eh sì quindi magari una mezz'ora che sto parlando solo no 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 io me ne accorgo subito l'ho avvisato vabbè dimmi se arriva qualcuno uno purtroppo non lo so perché Facebook secondo me quando inizia a staccarsi Facebook dice guarda sai che c'è deblocco tutto c'è Simona c'è Giauto Vieri Conte allora nell'attesa Alessandro De Palma siamo qua nell'attesa che si ricollegano comincia a tritare il semolo buono ragazzi però deve cuotere ancora un altro mons rieccoci Simona guarda non sappiamo come mai nelle ultime serate ogni tanto sto alla diretta decide di di bloccarsi allora prendiamo un po' di prezzemolo ci siamo e ci siamo quasi vediamo magari le foglioline ora vediamo chi stava attento Sisimo facciamo l'interrogazione ecco Roscio Benedetta di nuovo Marco Fiero rieccoci il bello della diretta ogni tanto salta vabbè e vabbè adesso lo possiamo togliere questo è prezzemolo questo ve lo tolgo ciao mons l'ho fatta qua oggi la cucina beh sto contenta mi fa piacere ci stiamo ci stiamo quasi perché oggi mi sono allora Benedetta chiede se posso sostituire l'aglio con lo scologno non mi menate si si Benedetta puoi anche non mettere niente eh cioè a me cazzo quando mi dicono che sono allergici all'aglio che pure non piace eh faccio la salsa semplicemente olio scampo spaccato sfumo con il brandy e continuo allo stesso modo ti boicottano ci dice Mariano carbone è la concorrenza Mariano qualcuno non accetta non ci vede di buono magari quello che contiamo e andiamo a tritare un po' di prezzemolo che noi lo utilizzeremo soltanto per dare colore non lo andremo poi a mettere nel riso ok ecco Roberto pure ci siamo quasi Roberta e Roberto non riusciamo a capire perché ora la prossima volta facciamo direttamente con la connessione del telefono vediamo cosa succede ah domani naturalmente facciamo festa domani è festa eh sì domani 25 aprile liberazione ma tasto il pedirece scusate non ho capito la ricetta crema di scampi sì risolta la crema di scampi ciao Deborah ciao schioppo riacco pure Giorgio ok io qua tanto mi diverto a tridà perché tanto devo aspettare perfetto ci siamo com'è è buono sì Francesca bulla ciao ci siamo quasi domani verace oddio non lo so che facciamo domani da mangiare domani domani andiamo al ristorante brava siamo ah domani sera non lo so ciò abbiamo tentato di pianificare una mezza pizza al forno a legna ma non lo sappiamo ah brava no perché ma in realtà stasera mi avevi detto mi facevi la tartare non è fatto in tempo capito non si accontenta mai allora il riso anzi il risotto ti sei emozionato hai visto se hai messo la divisa e tu che altre maglie ha allora ma chi è schiombo ovviamente il riso risotto come ho detto in altre occasioni deve essere servito all'onda quindi non deve essere né troppo asciutto né troppo liquido ok guardate vedete com'è eh i chicchi comunque sono tutti separati ma comunque rimangono diciamo rimane una preparazione bella legata questo è uno dei piatti di Elimina amore arrivato a questo punto ripesco gli scampi ci siamo quasi lo so che questa sera ci siamo dilungati però visto che ce l'avete chiesto abbiamo preferito non saltare i passaggi e per fare il risotto insomma qualche minutino ci vuole però almeno avete capito che quando al ristorante ve lo fanno in 10 minuti in 15 minuti significa che mi stanno dando un riso pilaf un riso ricotto lo fanno tutti eh lo faccio anche io non è che voglio di chi sono meglio degli altri però sono pochi i ristoranti che possono fare un riso espresso faccio spazio e mi serve un posto il profumo c'è però staccato un'altra volta ha letto rosso che la maglia della Tari se la frega alla prima occasione allora ciao Elisa ciao Flavia li ho provato tutti non so se mi avete visto ok questo poi mettiamo lo scampetto e abbiamo detto ne mettiamo due a testa adesso non è scotta però così e andiamo a completare il tutto con del prezzemolo anziché metterlo a caso io non ho mai visto no non è pubblicità però veramente io non ho mai visto un piatto di risotto alla crema di scampi fatto così bene ma lo dici tu perché sei di parte no non so di parte perché l'isola non te lo presentano in modo così curato comunque questa sarà la nostra cena lo sai che sono molto critica quindi Marco Fiero adesso aspetto il tuo parere un saluto a tutti vi ringraziamo domani non ci vediamo quindi buona festa a tutti ci vediamo quasi sicuramente lunedì dicono che si mangia prima con gli occhi poi vi diremo come quindi grazie ci vediamo lunedì grazie a tutti fate una buona serata ci sarà una sorpresa la sentiamo la prossima quasi sicuramente ciao 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 chef non riesco